Per procedere più consapevolmente lungo il nostro itinerario alla ricerca del ritmo gregoriano, credo sia utile sostare visivamente su tutto il lavoro della restaurazione gregoriana nei confronti della melodia. Questa volta guardiamo sul tetragramma musicale, passo dopo passo, tutto lo sviluppo di cui abbiamo detto sinora e che, sappiamo, si compie con le due pubblicazioni d'inizio secolo. A questo proposito, però, pongo sin da ora una domanda che potrebbe orientarci meglio nel chiarire il quadro generale della restaurazione. È possibile individuare, anche per la sua fase novecentesca, una produzione simbolo che, al pari del graduale e dell'antifonale, né inquadri le caratteristiche e né qualifichi i risultati? La risposta è decisamente affermativa e permette di prospettare sin da ora un chiaro punto di riferimento a cui dovremmo giungere con la nostra indagine storico-interpretativa sul ritmo gregoriano. E si tratta del graduale triplex che già avevamo indicato all'inizio del nostro percorso, ripromettendoci di prenderlo in considerazione al momento opportuno. Ci basti, però, per il momento la semplice introduzione visiva di questo fondamentale testo pubblicato a Soles nel 1979. E si tenga presente che il risultato che abbiamo davanti agli occhi non è che una somma di sovrapposizioni notazionali, accumulatesi nell'arco di un secolo, a loro volta riflesso di un diverso e progressivo grado di maturazione sui versanti melodico e ritmico. La figura 1 contiene il graduale universi della prima domenica di avvento. Individuiamo con precisione le parti da cui è composta questa pagina. Il testo, il testo in latino, le note con il sistema grafico quadrato collocate sul rigo musicale, detto tetragramma, i segni aggiunti alle note quadrate e al rigo, e infine due differenti sistemi grafici di notazione presenti sopra e sotto il rigo musicale. Teniamo il tutto idealmente presente nell'apprestarci a compiere l'itinerario visivo della restaurazione gregoriana sul versante melodico che compiamo attraverso quattro tavole, sempre in riferimento a questo graduale universi. La figura 2 è la più volte citata versione ratisbonense del 1871, contestata, come abbiamo detto, con forza dall'edizione di Potier che vediamo riportata alla figura 3. È assolutamente evidente, a testimonianza di quanto si è detto in precedenza, la distanza abissale fra le due versioni, l'edizione che possiamo chiamare neomedicea di Pustet, l'edizione ufficiale in quel frangente storico, è un canto gregoriano monco, sfigurato, e si osservi ad esempio solo la parola domine. Il melisma, cioè il gruppo di note ripristinato da Potier sulla sillaba finale, è totalmente assente nell'edizione tedesca e parte di esso è addirittura spostato sulla prima sillaba di accento della stessa parola. Già da questo semplice esempio si comprende la portata del lavoro sulle smense. Il canto gregoriano non poteva più dirsi tale perché la versione melodica ne aveva totalmente compromesso la leggibilità. Le nostre attuali riflessioni sul canto gregoriano sono possibili, ricordiamolo sempre, solo grazie ad un'impresa che anche attraverso la comparazione di queste due tavole ci appare sempre più gigantesca. Dopo la consacrazione dell'opera sulle smense da parte del motu proprio di Pio X nel 1903, come già abbiamo detto, si giunge alla tanto attesa edizio tipica del graduale romanum stampata dalla tipografia poliglotta vaticana nel 1908. È ciò che possiamo vedere nella figura 4. La linea melodica è molto simile ma non identica al graduale di Potier. I criteri adottati dalla commissione pontificia divisero le posizioni di Potier e di Mocro. La versione scelta risentì di queste accese dispute e bisogna dire che non fu la migliore possibile, questo l'abbiamo già accennato. Assicurarono comunque un risultato di grande livello, la qualità del lavoro e la quantità delle fonti consultate, molte di più di quelle utilizzate ad esempio da Potier per il suo graduale. Pio X additò questa edizione a modello, a modello assoluto di riferimento per tutta la chiesa e ne sancì l'intangibilità. Nulla della nuova edizio tipica, così è chiamata, si sarebbe potuto cambiare perché quella era divenuta la versione melodica ufficiale del canto gregoriano. Dopo la pubblicazione, sempre da parte della Vaticana, dell'antifonale, dell'antifonale Romanum nel 1912, la Santa Sede sciolse la commissione e affidò a Soles la continuazione degli studi e delle nuove pubblicazioni di canto gregoriano. Di Soles fu la nuova edizione del graduale Romanum nel 1974, noto anche come graduale di Paolo VI, in cui il repertorio dei brani è questa volta disposto secondo l'ordinamento previsto dalla riforma liturgica conseguente al concilio Vaticano II. La versione melodica del nuovo graduale rispettò l'intangibilità dell'edizione del 1908 che pertanto non subì sotto questo aspetto alcuna modifica. E quanto al graduale triplex si noterà come esso non sia altro che lo stesso graduale Romano nel 1974, alla cui semplice notazione quadrata vennero aggiunte le due notazioni già sopra segnalate e che sono dette adiastematiche o in campo aperto, vale a dire senza alcun rigo musicale o altro sistema di riferimento. Ma sul versante melodico tutto rimane ovviamente fermo all'edizione del 1908, nulla cambia perché nulla poteva essere cambiato a motivo delle rigide disposizioni di Pio X sulle nuove edizioni ufficiali. Queste non consentirono di risolvere il problema di alcune scelte melodiche fortemente contestate da Mocro e dai suoi seguaci e la crescente maturità e profondità di indagine sugli antichi codici mostrò infatti con sempre maggiore chiarezza alcune gravi incongruenze della versione ufficiale vaticana che però ormai era divenuta intoccabile. Fu così che in questa situazione possiamo dire imbarazzante, Pio XII consentì a dare inizio nel 1948 ad una nuova impresa sulle smense, ossia l'edizione critica del graduale romano, nella speranza di realizzare al termine dei lavori un'edizione migliore. Il progetto di questa nuova e colossale edizio magis critica era articolato in tre fasi successive con relative edizioni. Sarebbero stati pubblicati in successione tre graduali, il primo senza musica e con il solo testo, l'edizione critica del testo, il secondo con i soli neumi in campo aperto, cioè l'edizione critica neumatica e il terzo con versione melodica su Rigo, l'edizione critica della melodia. Il lavoro però è fermo alla pubblicazione di tre volumi sul metodo critico, l'ultimo dei quali pubblicato addirittura nel 1962. Alla conclusione del concilio Vaticano II il gruppo di lavoro sulle smense assieme ad altri specialisti fu coinvolto nel lavoro di redazione dei nuovi libri di canto come il graduale Simplex del 1968 e questo fatto finì per compromettere pesantemente e forse definitivamente i lavori progettati per questa edizione critica del graduale che non ha più avuto seguito. Il problema della versione melodica del repertorio gregoriano tuttavia non è mai stato abbandonato, anzi svanita la possibilità di un progetto di lavoro finalizzato ad una nuova edizio tipica il mondo accademico ha prodotto risultati di tutto riguardo in questo campo e dalla seconda metà del ventesimo secolo un cospicuo numero di studiosi ha messo mano attraverso la creazione di gruppi di lavoro a carattere privato ovviamente ha messo mano alla revisione dell'edizione vaticana con esiti apprezzabili verificabili in particolare modo dalle esecuzioni di numerosissime scuole e da incisioni discografiche che si sono sorprendentemente moltiplicate in ogni parte d'europa e del mondo possiamo dire. L'ultima pubblicazione significativa che vale la pena citare in questo senso è il graduale novum edito in due tomi il primo De Dominicis et Festis nel 2011 e il secondo De Feris et Santis nel 2018 quindi recentissimo. Le nuove proposte melodiche formulate sulla base degli studi più aggiornati riguardanti le antiche testimonianze e manoscritte sono in genere da accogliere con estremo interesse perché manifestano l'intenzione di far coincidere per quanto è possibile il segno neumatico in campo aperto cioè senza l'indicazione melodica con la successione di suoni che lo stesso segno presuppone. È uno dei tasselli che mancano ad una piena restaurazione gregoriana ovvero al recupero di una totalità espressiva, obiettivo ambizioso ed entusiasmante che passa anche attraverso il pieno recupero di una linea melodica originale. Dobbiamo ora tornare al tema fondamentale del ritmo per seguirne lo sviluppo e per collocarvi il ruolo del graduale triplex. Dopo il recupero dei testi e delle melodie dunque bisognava dare il soffio vitale a quel prodigioso ma immobile organismo rigenerato. Il passaggio dall'edizione ratisbonense all'edizione vaticana attraverso il liber gradualis di Potier e altre pubblicazioni coeve aveva cancellato definitivamente l'impostazione ritmica mensurale fatta di note che richiamavano il sistema proporzionale rinascimentale. Ma la nuova notazione quadrata anch'essa frutto di un felice recupero delle antiche graffie su Rigo, in particolare di area franca, non era in grado di suggerire da questo punto di vista alcuna nuova proposta. Si distrusse finalmente, possiamo dire, un edificio abusivo ma il nuovo progetto era ancora da farsi. Le premesse certo erano ottime perché la notazione quadrata, oltre a cancellare le figure del sistema proporzionale, dispose le note raggruppandole in figure neumatiche fedeli alle antiche testimonianze manoscritte. Ma tanto il graduale di Potier quanto l'edizio tipica del 1908 non parlarono di ritmo e si limitarono all'individuazione per mezzo di vari tipi di stanghette di un macro fraseggio fatto di incisi, semifrasi, frasi intere, tutto di indiscussa utilità ma assolutamente insufficiente ai fini dell'interpretazione. Lungo tutto il corso del ventesimo secolo le teorie ritmiche si sono moltiplicate con risultati per buona parte persino fuorvianti, questo va detto, e ne è triste esempio il cosiddetto metodo sulle smense che ingabbiava letteralmente la melodia gregoriana in improbabili successioni ritmiche binarie e ternarie. Non è il caso di soffermarsi su questo sistema ritmico anche se il vantaggio di questo sistema tuttavia che riscosse una diffusione crescente tra il 1905 e il 1957 fu la sua grande facilità applicativa che permetteva così a un numero elevato di persone di cantare d'accordo, di cantare insieme, a ritmo come auspicava il padre De Santi. Per rinunciare a un metodo così pratico e efficace ci volevano pertanto delle solide ragioni e delle valide alternative. E proprio in questa direzione ha mirato la ricerca nella seconda metà del secolo. E mentre infatti si assisteva al crescente successo del metodo di Solè, si osservava quasi in parallelo un sorgere di obiezioni profonde e ragionate contro questo sistema che doveva la sua praticità a una serie di semplificazioni, riduzioni e schematizzazioni che cominciavano già allora a essere percepite. La cosa sorprendente e per certi versi paradossale era che a Solè, cioè nel cuore stesso della restaurazione gregoriana, si cantava in modo diverso, non seguendo affatto il metodo Solè-Smense. Ciò dimostra soprattutto che la risposta al problema del ritmo non era ancora stata data. Tutte le edizioni di canto gregoriano fino a giungere al graduale del 1974 mantenevano di fatto un'incolmabile distanza tra la melodia e il ritmo. Da qui la consapevolezza che la risposta al problema ritmico non spettava né di fatto né di diritto alla notazione quadrata. Ogni aggiunta di segni ritmici o altro ai neumi sul rigo non faceva altro che creare nuovi problemi. Ci voleva quindi una svolta, una nuova strada. E questa consistette nell'intuire che il soffio vitale di quella serie di suoni senza ritmo non poteva liberarsi che attraverso i segni dei primi codici in campo aperto. Sarebbe l'avventura gregoriana aprendo la strada a un nuovo percorso e a un nuovo sguardo sugli antichi manoscritti. Con lui si inaugurò una nuova e fecondissima stagione della ricerca, perfettamente in linea con gli studi che per oltre un secolo posero i Benedettini Solè-Smense al cuore della rinascita gregoriana, ma con elementi di novità in grado di dare senso compiuto o quantomeno di lasciarlo intravedere alla meravigliosa avventura iniziata con l'abate Gherange nella prima metà del XIX secolo. Con Cardin nacque quindi la semiologia gregoriana, ovvero la ricerca del significato musicale dei neumi scritti in campo aperto. Così la vera svolta nella comprensione del fenomeno ritmico non coincise con l'elaborazione di sempre nuove teorie, ma ancora una volta con il ritorno alle fonti manoscritte. Nel 1975, un anno dopo l'uscita del nuovo graduale Romanum, fu fondata sulla spinta degli studi cardiniani l'Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano. I seguaci del maestro progettarono una nuova edizione sulle smense del graduale che contenesse la testimonianza delle due scuole di notazione più significative. Così Rupert Fischer e Marie Claire Bilcock trascrissero rispettivamente sotto e sopra il rigo melodico della Vaticana la notazione adiastematica dei codici di scuola sangallese, in particolare il Cantatorium 359 della fine del IX secolo e Ainsiden 121 dell'inizio del X secolo. E scuola metense sopra il rigo musicale, sopra il rigo della Vaticana, con il codice di Lon 239, la prima metà del X secolo. Si arrivò così finalmente all'edizione del graduale triplex. Universi qui te expectam un'escrizione 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 che un'escrizione 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.